I primi interventi per il territorio di Ischia sono arrivati ieri dal Consiglio dei Ministri, straordinario riunito da Giorgia Meloni. Sono stati stanziati 2 milioni di euro per i primi interventi urgenti che riguardano l'assistenza alla popolazione, il ripristino delle strade e dei principali servizi pubblici. È stata nominata Simonetta Calcaterra, commissario della protezione civile per la gestione dell'emergenza dopo la frana. Sottolineano da Palazzo Chigi che lo stanziamento di 2 milioni che verrà prelevato dal Fondo per le Emergenze Nazionali è solo provvisorio. Altre risorse verranno stanziate dal governo dopo la relazione del nuovo commissario. A casa Micciolaterme è arrivato anche il presidente della regione, Vincenzo De Luca, che dopo un sopralluogo ha ribadito che le case insicure vanno demolite perché l'abusivismo di necessità non esiste. Per il governatore è importante che le persone capiscano che la loro vita è in pericolo se vivono in zone dove il rischio idrogeologico è altissimo. Per la zona di Via Celario e per tutta l'area colpita dalla violentissima frana dell'alba di sabato occorre un piano di ricostruzione approvato in tempi veloci ma con una logica ambientalista. Vale a dire ricostruire strutture e infrastrutture ma non abitazioni, quelle no, quelle saranno costruite in zone non a rischio idrogeologico.